L'hanno chiamata a basso profilo l'inchiesta della procura di Catanzaro contro l'Andrangheta, ma in realtà è di altissimo profilo. Infatti tra gli indagati per associazione a delinquere c'è il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa. L'abitazione romana è stata perquisita, arrestato a domiciliare l'assessore regionale al bilancio Franco Talarico, segretario calabrese dell'Unione di Centro. L'inchiesta di Andrangheta riguarda i presunti legami tra il politico Elendrine, Grande Aracri e Arena di Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Nel dettaglio Cesa è indagato per il reato di associazione mafiosa aggravata, secondo quanto si legge nell'ordinanza del GIP, l'ex parlamentare viene contestato di essere stato a pranzo con alcuni degli arrestati legati all'Andrangheta, al fine di discutere dell'assegnazione di appalti. Sostanzialmente questa indagine ci spiega l'Andrangheta del 2021, cioè si spiega la continua evoluzione delle mafie. Quelle mafie, quell'Andrangheta, che spara sempre meno e sempre più corrompre, sempre più a rapporti con i quadri della pubblica amministrazione, con le forze dell'ordine. Cesa ha replicato, mi ritengo totalmente strano, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre ho pieno di totale fiducia nell'operato della magistratura. Rassegno le mie dimissioni del segretario nazionale con effetto immediato. 49 gli arrestati, 13 in carcere e 36 domiciliari. Coinvolti nell'operazione amministratori locali, imprenditori, il notaio Rocco Guglielmo di Catanzaro, interdetto dalla carica, oltre a una schiera di indrangheta legati alle due famiglie mafiose del Crotonese. La DIA ha effettuato anche il sequestro di beni per un valore di 100 milioni e ha accertato un movimento di denaro illecito per oltre 300 milioni di euro. Lei pensa che l'Andrangheta avrà una fine? No, allo Stato non posso parlare di fine. Posso parlare che con le regole del gioco che abbiamo oggi, con i sistemi penali processuali detentivi che ci sono in Italia e soprattutto che non ci sono in Europa e nel resto del mondo, noi possiamo dare duri colpi. Grazie.